E TG più Today, buongiorno, ben ritrovati. Venerdì mattina si chiude una settimana con tante notizie, notizie sulla situazione internazionale, notizie italiane e una settimana che introduce anche al weekend elettorale domani e domenica urne aperte per le elezioni europee e anche per numerosi comuni che vanno al rinnovo delle amministrazioni, del sindaco e dei consigli comunali. Sono 89 in provincia di Comò i comuni al voto e in tutta Italia, in tutta Europa si vota per il rinnovo appunto del Consiglio europeo. Tra l'altro le elezioni sono già iniziate perché le date sono diverse a seconda dei paesi, quindi ci sono dei paesi europei dove già si sta votando. C'è anche la cronaca in primo piano questa mattina perché purtroppo ci sono aggiornamenti drammatici che ci portano a Milano dove all'alba, attorno alle 6 di questa mattina, c'è stato un gravissimo incidente, uno scontro tra un camion e una macchina. Una Volkswagen sono morti, due giovanissimi, altri due sono feriti gravi sulla tangenziale. Quattro giovani tra i 18 e i 25 anni viaggiavano appunto su una macchina che si è scontrata con un camion. Due degli occupanti sono purtroppo morti sul colpo. Lo andiamo a vedere anche dall'Ansa con le informazioni che appunto già sono arrivate questa mattina. Due persone sono morte, due sono rimaste gravemente ferite questa mattina in un incidente stradale avvenuto nel milanese sulla 52 tra Pero e Cerchiate tra un'auto e un camion che ha coinvolto quattro giovani tra i 18 e i 29 anni. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco di Milano impegnati per permettere i soccorsi del 118. È intervenuta anche la polizia stradale. Secondo le prime informazioni il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 6 sul raccordo tra la 8 e la 4 che da Pero, Milano porta lungo la statale 33 del Sempione poco prima della galleria del Cerchiarello in direzione nord. Lo schiantola cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Ropero. Secondo quanto riferito dal 118 le vittime e i feriti sono tutti ragazzi maschi. Ad avere la peggio sono stati il conducente di 25 anni e un ragazzo che stava dietro di lui di cui ancora non si conosce l'età. Morti sul colpo o subito dopo i due feriti invece sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico addominale e agli arti in condizioni più gravi e un diciottenne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto. Sarebbe stata l'auto sulla quale si trovavano i quattro giovani a impattare contro il camion appunto nell'incidente anche se la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando sono entrati nella galleria del Cerchiarello lungo la statale 36 del Sempione che subito dopo diventa l'accordo della 52. Il conducente della vettura, una Volkswagen Maggiolone di colore bianco, avrebbe perso il controllo finendo per tamponare il camion. Entrambi i veicoli hanno poi terminato la corsa all'esterno del tunnel dove la macchina si è fermata ribaltandosi e all'interno c'erano appunto le due vittime. Sono ancora in corso gli aggiornamenti, ci sono state naturalmente anche ripercussioni sulla viabilità. Purtroppo il bilancio è drammatico, ci sono due vittime, due ragazzi giovanissimi e due feriti gravi. Questi gli aggiornamenti di questa mattina, c'è anche un'altra vicenda di Cronaca che sta tenendo con il fiato sospeso il territorio comasco per le ricerche di un turista disperso da ieri. E allora andiamo attorno da Beatrice Greco. Sì, buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Siamo in piazza Caronti attorno qui. È stato visto per l'ultima volta mercoledì sera il turista belga di 81 anni, Albert René Corbel. È stato visto qui, è arrivato da quanto è stato ricostruito, è arrivato qui in questa piazza con un taxi insieme alla moglie. Poi il turista si è allontanato, non è chiaro per quale motivo, ed ha imboccato via Piave, che è quella che vedete qui avanti, qui appunto salendo sopra questi gradini. Qui l'hanno ripreso le telecamere del comune un'ultima volta, c'è proprio un'immagine, diverse immagini delle telecamere comunali che riprendono il turista che si incammina verso questa via e aveva una camicia con un motivo floreale abbastanza colorata, quindi in realtà una camicia che si fa notare. Ecco, quindi nel caso in cui fosse stato visto da qualcuno sicuramente le persone sarebbero ricordate quanto meno di questa camicia molto vistosa, però invece è salito su questa via, su via Piave, e poi non è stato più ritrovato, come se fosse scomparso nel nulla. Le ricerche sono attive, sono riprese questa mattina, si erano interrotte nelle ore della notte, sono riprese però adesso in mattinata, infatti arrivando attorno si capisce proprio che c'è allarme nel paese perché ci sono mezzi dei vigili del fuoco, della protezione civile, ci sono tanti uomini al lavoro e stanno andando avanti le ricerche sia sulla montagna che nel lago, quindi si cerca in qualsiasi modo, anche con elicotteri, droni e unità cinofile, proprio per ritrovare questo turista belga. Tra pochissimo andremo in giro per Torno, per vedere appunto di riuscire a avere qualche informazione in più, proveremo a parlare anche con i cittadini, se magari qualcuno ha visto questo turista girarsi qui per la cittadina o se invece insomma capire se ci sono stati degli sviluppi nelle ultime ore. E intanto vi ridiamo la linea. Grazie a Beatrice, ovviamente continueremo a seguire appunto quello che sta accadendo attorno con le ricerche del turista. Andiamo a vedere anche quali sono le altre aperture in le notizie in primo piano. Questa mattina sul Corriere si parla anche di economia, di pensioni, 11 modi per lasciare il lavoro, la guida con i requisiti e il calcolo dell'assegno e poi invece ancora la situazione legata al conflitto in Ucraina. Macron promette a Chievi caccia Mirage e una brigata francese con soldati ucraini. Questi gli aggiornamenti proprio sul fronte del conflitto in Ucraina. Andiamo a vedere invece anche l'apertura di Repubblica che è dedicata a un caso, quello di Paolo Signorelli, portavoce del ministro Lollobrigi, da frasi antisemite e lodi ai neofascisti nelle chat con l'amico Diabolic. Il ritratto, poi appunto il nipote dell'ideologo del terrorismo nero e il commento. Lollobrigida rimuove il suo portavoce se Signorelli non avrà la decenza di mettersi. Questo è il caso in primo piano su Repubblica, poi ancora verso le elezioni. Meloni ora teme il fattore astensione, mi servono voti per essere forti. Per essere forte, forza Italia. Tagliani avverte gli alleati, un governo dell'Unione Europea va fatto. Se serve con i socialisti, invece in casa Lega, Salvini tra Le Pen e Trump si aggrappa a vannacci. Superiamo forza Italia. Andiamo a vedere invece l'apertura di Open dedicata alle parole del ministro Crosetto e le armi italiane e l'Ucraina per colpire la Russia. È un segreto e comunque non succederà. Il ministro della Difesa, gli attacchi a Ponte e Salvini sono solo speculazioni. Andiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Anche su Open, la vicenda della chat del portavoce di Lollo Brigida con Diabolic, Brucerei le chiese, i preti, peggio. E il caso appunto che è scoppiato, lo abbiamo visto poco fa anche su Repubblica. Ancora Ilaria Salis e la storia dell'occupazione di una casa popolare a Milano ha un debito di 90 mila euro. E poi quello che non torna nella storia degli 007 e dell'auto di Andrea Gianbruno sotto la casa di Meloni, una vicenda di qualche giorno fa. Ci sono poi i video, follia a Milano, l'assalto di una baby gang contro un'auto, pugni e calci sui finestrini in corsa. Ancora i video proposti da Open, il tentativo disperato del Vigile del Fuoco di salvare i tre ragazzi abbracciati nel natisone. E poi invece cambiando completamente argomento l'episodio al liceo scientifico-linguistico Enrico Medi di Battipaglia davanti a un docente colto di sorpresa, o capitano o mio capitano, il saluto di una classe di maturandi al prof. La scena in un liceo di Battipaglia. Infine a Napoli Forza Italia chiude la campagna elettorale con il ballo flash mob dei ricchi e poveri. Questa è l'apertura di Open. Andiamo invece a vedere anche l'apertura del quotidiano economico il Sole 24 Ore che apre con la giornata dei mercati, borse dell'Unione Europea deboli nel day after della BCE. Lo ricordiamo appunto ieri l'intervento sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea, Cina, Balzo Export e poi invece ancora le banche. Dopo i maxi utili arriva la riduzione dei margini di interesse. Andiamo a vedere anche invece l'ok di Bruxelles al decreto sulle rinnovabili in arrivo nuovi incentivi. Ecco quale potrebbe essere l'impatto sulla bolletta. Infine gli aggiornamenti come sempre sul Sole 24 Ore con le notizie in tempo reale dal mondo. Russia, missili americani usati contro i civili a Belgorod. Biden, Surafa Netanyahu ci ha ascoltati. Questi gli aggiornamenti anche del quotidiano economico il Sole 24 Ore. L'apertura del Corriere del Ticino invece dedicata al caso GameStop. Marorin Chitti ha manipolato il mercato. Una domanda che negli Stati Uniti sta circolando con forza dopo il ritorno di Kate Grille e il nuovo rialzo del titolo. Poi in primo piano, come sempre, un'ampia finestra con le notizie aggiornate sul conflitto in Ucraina. Missili balistici russi sull'Ucraina occidentale colpite le regioni da Leopoli a Kiev. Infiamme un impianto industriale nell'oblast della capitale. Verso un nuovo pacchetto di aiuti statunitense. Includerà altri sistemi missilistici. Ancora il caso francese fermato in Russia per presunte attività di spionaggio militare. E poi navi da guerra russe vicino agli Stati Uniti. E poi il vertice in diversi posti di polizia verranno chiusi durante la conferenza in programma a Burgenstock. Per quanto riguarda la guerra, ancora anche le parole di Putin, l'invio di armi a Kiev da parte dell'Occidente è un passo pericoloso. E poi le parole di Biden. Conosco Putin da 40 anni e mi preoccupa da 40 anni. Questa è l'apertura anche del Corriere del Ticino. Torniamo invece a Lanza, perché lo abbiamo detto in primo piano, il drammatico incidente a Milano sulla 52, due morti e due feriti. Ci sono poi altre notizie ovviamente in primo piano. Andiamo a vedere in particolare quelle legate al conflitto in Medio Oriente. Biden su Rafa Netanyahu ci ha dato ascolto. Israele colpite strutture di Hezbollah nel Libano del Sud e poi ancora Smotrich che torna a chiedere l'occupazione della striscia. Il premier Benjamin Netanyahu ha dato ascolto alle preoccupazioni degli Stati Uniti sull'operazione militare a Rafa, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una intervista alla ABC News ripresa dai media israeliani. israeliani, penso che mi stia ascoltando, volevano entrare a Rafa a tutta forza, invadere tutta Rafa, andare in città, portarla fuori, muoversi, muoversi con tutta la forza, non l'hanno fatto, ha risposto Biden a una domanda dell'emittente. E quello che hanno fatto, ha aggiunto riferendosi alla roadmap, è stato concordare un'intesa significativa. L'esercito israeliano nella notte ha colpito strutture militari degli Hezbollah nelle aree di Jabal Ramye e poi anche nel sud del Libano. Il ministro delle finanze israeliano e leader di destra radicale di sionismo religioso è tornato a chiedere insediamenti israeliani a Gaza una volta sconfitto Hamas. I nostri eroici combattenti e soldati, ha detto, stanno distruggendo il male di Hamas e occuperemo la striscia di Gaza. A dire il vero, dove non ci sono insediamenti, non c'è sicurezza. E il Qatar invece, appunto, che parla anche appunto di altri insediamenti, dove non ci sono insediamenti, non c'è sicurezza. Smotric ha parlato a un evento per inaugurazione di un centro religioso. Andiamo invece, torniamo anche alla prima pagina proprio appunto dell'Ansa. Ci sono anche altre notizie naturalmente in primo piano. Oltre al conflitto in Medio Oriente si parla dell'Ucraina. Attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale. Incendio in un impianto industriale nell'oblast di Kiev, Mosca. Distrutti 28 droni ucraini sul nostro territorio. Le forze russe che appunto hanno lanciato un attacco missilistico contro l'Ucraina nella notte prendendo di mira principalmente le regioni occidentali del paese. Lo riporta il Kiev Independent, precisando che l'aeronautica militare ucraina ha fatto scattare un'allerta aerea nelle regioni di Termopil e poi a Lviv, nonché nella regione della capitale Kiev. La minaccia è costituita dai missili balistici da crociera russi, dai bombardieri e dai droni. A seguito dell'attacco è scoppiato un incendio in un impianto industriale nell'oblast di Kiev. Sul posto sono attualmente presenti le squadre di soccorso per valutare l'entità dei danni e non sono segnalate vittime. La notte scorsa i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 28 droni ucraini sulla penisola di Crimea, sul territorio di Krasnodar e nelle regioni di Belgorod. Lo ha riferito, come riporta la TAS, il Ministero della Difesa russo. La notte scorsa sono stati fermati i tentativi dal regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando veicoli aerei senza pilota di tipo aeronautico contro obiettivi nel territorio della Federazione russa. E allora questi anche gli aggiornamenti invece sul conflitto in Ucraina, ma torniamo a sentire gli ultimissimi aggiornamenti da torno. Sì, eccoci Anna. Noi abbiamo percorso tutta Via Piave, quella in cui le immagini hanno ripreso per l'ultima volta il turista belga. Siamo arrivati fino a qui, come vedete qui a fianco il lago e questa è la via principale che riporta poi alla piazza o altrimenti risale verso poi le montagne. Abbiamo sulla Via Piave, ci sono alcune attività commerciali, abbiamo provato a parlare con alcuni dei proprietari delle attività e in realtà in molti ci hanno detto che non hanno visto il turista passare, quindi non si sono accorti del turista. In realtà lì su Piazza Caronti però c'è un bar, lì si era fermata la moglie del turista belga e aveva preso un caffè. Abbiamo parlato anche con il proprietario del bar che ha preferito però non farsi vedere e ci ha raccontato che lui sì lo ha visto la sera di mercoledì proprio perché la moglie si era fermata lì a prendere un caffè, lui però mentre la moglie stava bevendo il caffè si è incamminato, insomma ha iniziato a camminare per la piazza e poi ha preso Via Piave come appunto fanno vedere anche le immagini che abbiamo fatto vedere ieri sera. Quindi il proprietario del bar ci ha detto appunto abbiamo visto che iniziava a camminare verso Via Piave, è stato rivisto poi più avanti circa 200 metri dal bar sempre su Via Piave e poi però non è stato più visto da nessuno, quindi appunto come dicevamo come se fosse scomparso. Il barista però ci ha anche detto che la moglie pur parlando in inglese quindi non comprendendo bene appieno quello che gli stava raccontando è come se gli avesse detto che il marito soffre di Alzheimer, quindi c'è anche questa tra le ipotesi, ecco questo è stato quello che ha intuito il barista da quello che poi gli ha raccontato la moglie che era lì appunto ferma a prendere il caffè mentre il marito si stava allontanando, quindi c'è anche questa ipotesi che si sia in realtà perso perché appunto perché soffre di questa patologia. Quindi questo è uno degli ultimi aggiornamenti, come vi abbiamo detto continuano le ricerche, sono più di 50 gli uomini al lavoro per cercare questo turista belga che sembra scomparso nel nulla qui a Torno e tra poco proveremo a parlare anche con loro per capire se ci sono novità. Vi facciamo sapere a brevissimo. Grazie a Beatrice, noi cerchiamo ora di tornare invece anche alle altre notizie di attualità della giornata di oggi, lo abbiamo detto in mattinata appunto il gravissimo incidente a Milano sull'autostrada, ci sono purtroppo due vittime, ci sono gli ultimi aggiornamenti proprio in tempo reale, due vittime e ci sono state ovviamente anche ripercussioni sulla viabilità, questa mattina con un bilancio drammatico che si sta ancora aggiornando, sono ancora in corso invece appunto gli aggiornamenti proprio su quello che è accaduto e sulla dinamica di quello che è accaduto. Lo ricordiamo invece ancora, siamo alla vigilia di un weekend elettorale, si vota per le elezioni europee in Italia, urne aperte domani e nella giornata di domenica per il rinnovo del Consiglio europeo e poi anche per numerose amministrazioni comunali. E allora andiamo anche a vedere proprio come si vota alle elezioni europee perché appunto ci sono le videoschede, ci sono tutte le indicazioni con la guida e con gli errori da evitare in qual è appunto l'attenzione da porre. Intanto la prima è sugli orari perché sono un po' particolari in queste elezioni, i seggi sono aperti nella giornata di domani, sabato 8 maggio, dalle 15 alle 23. Il voto nella giornata di sabato è sicuramente una particolarità e quindi attenzione innanzitutto agli orari, appunto lo ribadiamo, seggi aperti già domani dalle 15 alle 23 e poi domenica 9 dalle 7 alle 23. Il sistema di voto è semplice, non ci sono alleanze o coalizioni, ciascuna lista corre per sé, la scheda è unica, si trovano i simboli delle liste in corsa per votare, basta mettere una X sulla lista prescelta. Possiamo anche vedere il facsimile della scheda, appunto che riporta i simboli dei partiti, non ci sono alleanze, non ci sono coalizioni. Continuiamo a vedere appunto come si vota, basta, lo abbiamo detto, una X sulla lista prescelta. È anche possibile invece esprimere da una a tre preferenze per i candidati al Parlamento europeo, scrivendo accanto al simbolo il cognome, il nome e cognome o un altro identificativo perché sia riportato nella lista. L'elenco dei nomi in corsa per ciascuna formazione varia in base alla circoscrizione. In ogni caso è bene tenere a mente che non conta la posizione in lista, che un candidato sia capolista ultimo, contano le preferenze ricevute. Attenzione alle regole sulla parità di genere, in caso si esprimano più preferenze, è obbligatorio scegliere candidati di sesso diverso, in caso contrario la seconda e la terza saranno annullate e sarà tenuta in considerazione solo la prima preferenza. Sono 76 seggi a disposizione per l'Italia, sono assegnati con un metodo proporzionale, cioè sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti ricevuti. Una formazione deve però ottenere almeno il 4% per entrare al Parlamento europeo, quindi la soglia di sbarramento per le liste al 4%. Al seggio ricordate di presentarvi con la tessera elettorale e con il documento di identità. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi per quanto riguarda le elezioni europee, invece nella giornata di lunedì per le elezioni amministrative. Allora torniamo anche a vedere il facsimile appunto della scheda, per ricordare ancora una volta. Non ci sono coalizioni, si votano i simboli, in quasi tutte le circoscrizioni ci sono 12 simboli sulla scheda, solo nelle isole sono 11. Grigio, marrone, rosso, rubino, arancione e rosa sono i colori delle schede elettorali per le elezioni europee del 2024 nelle diverse circoscrizioni d'Italia. Il facsimile della scheda è stato pubblicato dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Viminale. L'8 e 9 giugno si vota per eleggere 76 eurodeputati che rappresentano, che rappresenteranno l'Italia a Bruxelles. L'Italia è divisa in cinque aree, i seggi spettanti sono ripartiti in base alla popolazione residente. Si va dai 20 per l'Italia nord-occidentale, ovvero la circoscrizione in cui rientra anche la Lombardia insieme a Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria appunto che eleggerà 20 euro parlamentari, ai 15 per l'Italia nord-occidentale e per l'Italia centrale, ai 18 per l'Italia meridionale, per concludere con gli 8 destinati all'Italia insulare. Ad ogni circoscrizione avrà una scheda di colore diverso, il grigio toccherà all'Italia nord-occidentale, ci sono 12 simboli, appunto lo abbiamo visto, è possibile tracciare. Questa è la scheda proprio dell'Italia nord-ovest, quindi quella di colore grigio e lo abbiamo detto è possibile tracciare la croce su uno dei simboli di partito e poi anche eventualmente esprimere delle preferenze. Questi sono i facsimili per le altre circoscrizioni, questa è l'ultima, è per l'Italia e le isole, lo abbiamo detto, il colore grigio è la scheda elettorale per la circoscrizione in cui rientra anche la Lombardia, ovvero che eleggerà 20 consiglieri, 20 esponenti del futuro Consiglio europeo. Torniamo all'apertura del Corriere, ci sono appunto, lo abbiamo detto, spazio anche per le notizie economiche e in particolare sulle pensioni, ma c'è spazio poi invece anche per la cronaca e per la vicenda di Simone Borgese, gli stupri commessi a nove anni di distanza nella stessa data e la trappola. Entrambe le aggressioni commesse l'8 maggio a distanza di nove anni prima quella a una 17 anni in ascensore, ipotesi serialità, la Procura aveva chiesto il carcere Faro su altri due casi sospetti. L'indagine, entrambe le aggressioni commesse l'8 maggio a distanza di nove anni appunto in la vicenda che riguarda Simone Borgese che è accusato di aver violentato una studentessa di 22 anni, avvicinata alla fermata del bus alla Magliana e convinta con una scusa a salire sulla sua auto. L'uomo è stato poi identificato e arrestato, poi però Simone Borgese, sospettato di essere uno stupratore seriale, ha ottenuto gli arresti domiciliari. La misura decisa dalla giudice Maddalena Cipriani, nonostante due precedenti specifici, che l'ha ritenuta equilibrata, idonea a evitare la recidiva. La Procura invece ci aveva chiesto il carcere. Secondo il GIP per Borgese, catturato per la violenza commessa un mese fa, non c'è pericolo di inquinamento delle prove né di fuga e l'ultimo reato è stato commesso fuori dall'ambito domestico. E questo, nonostante lo stesso giudice, non escluda che possa trattarsi proprio di un seriale, forse autore anche di altre due aggressioni. Così, fra la perplessità anche di Kindaga, è tornato a casa nel quartiere Piana del Sole, tra Fiumicino e Roma, dove l'8 maggio 2015 aveva violentato una tassista che lo stava accompagnando a casa del nonno. La Procura ha presentato appello. Nove anni dopo, sempre l'8 maggio scorso, particolari su quale ora sono in corso accertamenti, il 39enne, padre di un adolescente scarcerato nel 2021 dopo aver scontato sei dei sette anni e mezzo ai quali era stato condannato, ha aggredito un'altra donna. Ha avvicinato la 22enne, studentessa fuorisede residente nel Frusinate, ogni giorno a Roma per impartire ripetizione e pagarsi l'università, mentre aspettava il bus di fronte all'ospedale israelitico e con il pretesto di un'informazione stradale l'ha convinta a salire sulla sua auto, quindi l'ha condotta in un luogo isolato, minacciata che non le avrebbe restituito il telefonino se non avesse acconsentito a un rapporto e infine è violentata prima di accompagnarla alla stazione ferroviaria di Villa Bonelli. La vittima naturalmente ha presentato denuncia, sono scattate le indagini che sono sfociate nell'arresto di Simone Borgese che ha poi ottenuto gli arresti domiciliari, un provvedimento che sta ovviamente suscitando qualche perplessità. Lo abbiamo visto, c'è stato anche il ricorso della Procura. Ci sono altri aggiornamenti sul drammatico incidente di questa mattina a Milano che ha coinvolto quattro ragazzi giovanissimi, le persone hanno tra i 18 e i 29 anni e lo ricordiamo ancora due persone purtroppo, due dei ragazzi che erano nell'auto purtroppo sono deceduti, gli altri due sono feriti in modo grave, l'impatto tra l'auto sulla quale viaggiavano e un camion proprio sulla A52 nel milanese. Questi gli aggiornamenti anche in tempo reale su questa vicenda. Ci sono anche notizie dell'ultima ora che riguardano invece il conflitto in Medio Oriente perché c'è l'annuncio di una nuova visita di Blinken in Israele nell'ambito delle trattative sulla guerra a Gaza. Il segretario di Stato Anthony Blinken arriverà in Israele lunedì prossimo, lo ha riferito Inet, secondo cui la visita l'ennesima nel paese dall'avvio della guerra nell'ottobre scorso avviene nell'ambito delle trattative per una tregua a Gaza e per il rilascio degli ostaggi. Questa è proprio un'ultimissima notizia, ovviamente si attendono poi ulteriori conferme anche su questo aggiornamento. Parlando invece di conflitto in Ucraina, andiamo a vedere Zelensky, l'Europa non è più un continente di pace ai parlamentari in Francia domani, altri paesi come oggi l'Ucraina. L'Europa non è più un continente di pace, quello che succede oggi all'Ucraina potrebbe capitare domani ad altri paesi, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky davanti ai deputati francesi. Zelensky ha ringraziato la Francia di essere al nostro fianco per difendere la vita. Torniamo invece a vedere la prima pagina dell'Ansa perché si parla anche degli scontri a Kiev. Nella notte 5 missili e 53 droni russi che sono stati lanciati sull'Ucraina. Le forze russe hanno preso di mira le infrastrutture critiche ucraine. La notte scorsa lanciando verso varie regioni del paese. 5 missili da crociera e 53 droni kamikaze, lo ha reso noto su Telegram. L'aeronautica militare di Kiev, le difese aeree ucraine, si legge nel messaggio, hanno abbattuto 48 droni e tutti 5 missili da crociera di Mosca. Questi gli ultimissimi aggiornamenti proprio anche sul conflitto in Ucraina. Ancora invece le parole di Tajani, del ministro italiano. In campagna elettorale si è parlato poco di Europa, lo abbiamo detto alla vigilia del weekend elettorale. Gli italiani non sanno esattamente come funziona il meccanismo. È stata una bella campagna elettorale ma avrei voluto che si fosse parlato di più di Europa perché si è parlato molto poco di Europa. Si è parlato sempre di cose italiane. I cittadini non sanno esattamente come funziona il meccanismo in Europa. Per esempio bisognava far sapere che non sono i partiti italiani che decidono in Europa. Noi siamo 76 parlamentari su 720. Non decidono i partiti nazionali e in Europa la grande forza è il Partito Popolare Europeo che deciderà il prossimo presidente della Commissione. Il presidente del Parlamento Europeo, i vertici apicali. Insomma se vogliamo far contare di più l'Italia in Europa bisogna votare per forza Italia. Il voto più utile che ci possa essere perché siamo la parte del Partito Popolare Europeo. Una cosa incontrovertibile non è propaganda elettorale. L'ho detto ad Agorà su Rai 3 il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani appunto alla vigilia del voto europeo. Restiamo ancora sull'Ansa. Abbiamo visto appunto l'attacco missilistico e poi ci sono anche invece i primi dati sulle elezioni europee perché lo abbiamo detto sono già iniziate. Ogni paese ha le sue date, i suoi orari per l'apertura dei seggi ci sono i primi exit poll che riguardano il voto in Olanda. Wilders non sfonda, la Buristi Verdi in vantaggio. L'ultradestra in Olanda non sfonda, i primi exit poll del paese che apre la maratona elettorale europea sembrano destinati a smentire i sondaggi. Gli exit poll finali nei Paesi Bassi confermano il vantaggio della coalizione la Buristi Verdi rispetto all'estrema destra, alle europee. In linea con quanto indicato dai primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne, l'alleanza europeista sarebbe in testa con otto seggi rispetto ai sette assegnati al partito per la libertà. Vediamo anche l'affluenza alle urne. Secondo una stima diffusa da Ipsos è stata del 47% in aumento rispetto al 42% di cinque anni fa. La partita resta aperta e l'esito si capirà soltanto domenica sera con i dati reali dello scrutinio di tutti i 27 Paesi. Con questi aggiornamenti sulle elezioni europee noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e tra pochissimo torneremo invece per parlare anche di sanità. A tra poco. Bentornati a ITG più Today. Parleremo tra poco, lo dicevamo anche di sanità, ma nel frattempo restiamo anche alle notizie che riguardano la Lombardia e la cronaca. Andiamo a un'inchiesta che ha permesso ai carabinieri di prendere una banda. Si parla di anziani truffati al Bancomat con il trucco delle banconote per terra. Il gruppo composto da otto uomini e due donne di origini sudamericane ha commesso almeno 27 furti aggravati ai danni di persone anziane, sottraendo i contanti appena prelevati. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Il gruppo composto da otto uomini e due donne di origini sudamericane ha commesso almeno 27 furti aggravati ai danni di persone anziane, sottraendo i contanti appena prelevati. Vediamo anche alcune delle immagini diffuse dai carabinieri. Ti sono caduti dei soldi a terra. Qui si vede anche appunto il video diffuso dai carabinieri. Ti sono caduti dei soldi a terra. La truffa inizia così come delle monetine o delle banconote, pochi spicci gettati per terra. Le vittime, sempre le stesse anziani al Bancomat, pronti a prelevare. Le accerchiano almeno in tre, a volte in cinque. Alcuni fanno il palo. Un complice si sistema in uno sportello bancario vicino a un altro e un altro appunto simula la truffa. È compiuta poi la fuga con i contanti della vittima. Un sistema rodato, almeno 27 colpi tra Milano, Lecco, Monza e il Piemonte, durato fino a giovedì 30 maggio, quando i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di dieci sudamericani, due donne e otto uomini accusati di furto aggravato e ricettazione. Le indagini dei militari della compagnia di Ro, guidate da Daniela Nuzzo e Francesco Mattei, sono partite da una denuncia di una vittima a febbraio. Da quel momento gli investigatori hanno passato al setaccio. I filmati delle telecamere di videosorveglianza delle banche hanno incrociato i tabulati telefonici, organizzato pedinamenti che hanno portato l'8 maggio ad arrestare in flagranza tre dei dieci truffatori mentre scappavano in una zona a Lorenteggio, a sud di Milano. In mano avevano 500 euro appena prelevati da un anziano. Vediamo appunto scorrere anche il video con quello che è stato ripreso dai carabinieri e che è servito proprio per arrivare a sgominare la banda. I dieci di volta in volta sceglievano le vittime in maniera accurata, anche fermandosi lungo la strada a ore per osservare e decidere il prossimo bersaglio. Poi agivano entrati in banca dietro l'anziano. Uno si posizionava a fare il palo in caso fossero arrivate le forze dell'ordine. Un altro si metteva a uno sportello fingendo di dover prelevare. Un terzo complice inscenava al diversivo la caduta di banconote o monetine di piccolo taglio nell'esatto momento in cui i soldi stavano per uscire. A quel punto la vittima si chinava per raccogliere i contanti e i soldi sparivano poi la fuga senza che la vittima se ne accorgesse. I carabinieri hanno ricostruito 27 episodi, alcuni risalenti anche a prima dell'inizio delle indagini. I colpi sono stati messi a segno a Milano ma anche in provincia di Monza, Lecco e in Piemonte. I ruoli all'interno delle batterie di colpi, anche un paio al giorno, erano interscambiabili. Non c'erano compiti fissi, gli arrestati tutti irregolari, alcuni con precedenti per reati contro il patrimonio, hanno tra i 21 e i 60 anni. Quattro di loro, il giorno in cui è stata eseguita la misura cautelare, erano già in carcere. Vediamo ancora il meccanismo con la signora che si abbassa per raccogliere le monetine e intanto vedete il ladro in azione che ruba i soldi allo sportello del banco. Questa è la tecnica ricostruita dai carabinieri e proprio mostrata chiaramente dalle immagini nel video diffuso appunto dagli stessi militari dell'arma. Torniamo invece anche alle notizie di Milano perché oltre al drammatico incidente di cui abbiamo parlato in apertura, si parla anche di una sparatoria in un cortile al Lorenteggio, un uomo ferito a colpi di arma da fuoco, colpito alla gamba, è grave. La vittima è un 32enne italiano con precedenti, è stato colpito nel cortile dello stabile al civico 183, sembra che prima del ferimento ci sia stata una lite. La vittima ha 32 anni, è stato colpito nel cortile, sembra che prima del ferimento ci sarebbe stata una lite. È accaduto questa mattina a Milano, le condizioni dell'uomo ferito sono gravi. Poco dopo le 8 in via Lorenteggio, periferia a sud della città di Milano. Secondo il 118, il ferito a un 32enne italiano è stato colpito a una gamba a causa del molto sangue perso e è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. Non sarebbe però fortunatamente in pericolo di vita. Il ferimento è avvenuto all'interno del cortile di uno stabile in via Lorenteggio, sul posto del lavoro la polizia scientifica. L'aggressore avrebbe sparato tre colpi, come hanno raccontato alcuni testimoni. Secondo le prime informazioni, il 32enne sarebbe stato raggiunto da un solo proiettile. sembra che prima del ferimento ci sia stata una lite. Questi gli aggiornamenti di cronaca che arrivano da Milano. Torniamo anche al tema elettorale. Abbiamo parlato delle elezioni europee, ma lo abbiamo detto in Lombardia, come nel resto d'Italia, sono numerosi anche i comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Andiamo a vedere qual è il quadro in Lombardia. Tra le città al voto ci sono Bergamo, Pavia e Cremona. L'aspirante sindaco più giovane è Simone Valsecchi, che ha 18 anni in corsa a Erwe nel Lecchese. Non solo europee, l'election day dell'8 e 9 giugno porterà alle urne anche 961 comuni lombardi, tra cui i capoluoghi di Bergamo, Pavia e Cremona. Una tornata importante perché coinvolge il 64% dei comuni lombardi, che sono 1.502 in totale. I centri minori sono in larga maggioranza, 924 su 961, ovvero il 96,1%. Qui si vota a turno unico. I comuni che superano i 15.000 abitanti sono 37. Nel milanese, dove i comuni al voto sono 68, c'è anche il numero più alto di comuni nei quali è possibile un doppio turno. Cesano Boscone, Trezzano Paderno Duniano, Rozzano, Peschiera Borromeo, Cormano, Lainate e Novate Milanese e Settimo Milanese. In questi centri, se nessuno dei candidati supererà il 50% delle preferenze, si andrà al vallottaggio il 23 e 24 giugno. Per tre comuni, a Gratebrianza nel Moncese, Casal Pusterlengo, Lodi e Concesio in provincia di Brescia, sarà il debutto del voto con il doppio turno. La crescita dei residenti, infatti, ha portato al superamento della soglia dei 15.000 abitanti. Situazione opposta nel comune di Casal Maggiore, in provincia di Cremona. Qui il numero di residenti è sceso sotto la soglia e quindi il comune tornerà a votare a turno unico. Prime elezioni in assoluto, invece, per il nuovo comune di Uggiate con Ronago nel Comasco, nato dall'Unione di Ronago e di Uggiate Trevano, istituito il primo gennaio scorso. Andiamo a dare ancora un'occhiata a qualche curiosità. Sono 2.212 i candidati che concorrono per la fascia tricolore nei 961 comuni al voto. Solo il 22% degli aspiranti sindaci è donna e guardando ai primati l'aspirante sindaco più giovane Simone Valsecchi, 18 anni, in corsa a Erve nel Lecchese. Il decano, invece, Giacomo Pini, classe 1941, in corsa a Bassano Bresciano e già sindaco negli anni 80. Nelle liste civiche, le più frequenti nei piccoli centri, abbondano i nomi originali. Ne citiamo qualcuno. Stella Alpina, Tre Piedi, Aria Nuova, innanzitutto onore, la svolta buona, la rondine, la colonna. Caspoggio è qualcosa in cui credere. E allora, queste anche le elezioni in Lombardia, perché lo ricordiamo, non si vota solo per le europee, ma anche in numerosi comuni. Ora andiamo però dal nostro ospite, lo dicevo prima, parleremo anche di sanità. Allora vado dal professor Silvio Grattini. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno. Buongiorno, presidente dell'Istituto Mario Negri. Ovviamente tutti lo conoscono. Professore, si sta parlando tanto in questi giorni di sanità e in particolare di liste d'attesa di una sanità che non risponde alle esigenze dei cittadini. Abbiamo sentito provvedimenti in Lombardia, provvedimenti anche a livello nazionale che vanno in teoria nella direzione appunto di ridurre i disagi per i cittadini. Poi sembra che nel concreto questi provvedimenti facciano fatica ad avere effetto. Cosa succede alla sanità lombarda e italiana più in generale? Beh, il problema principale è che si sta realizzando qualcosa che è contro la sostituzione, perché tutti i cittadini hanno diritto alla salute. Oggi siamo in una situazione in cui i cittadini che hanno risorse economiche hanno più facilità all'accesso alla sanità delle persone che ne hanno poche. Cioè purtroppo stiamo ritornando, e speriamo che questo venga in qualche modo cancellato presto, stiamo ritornando a una situazione prima del 1978, quando chi aveva soldi poteva curarsi e chi non li aveva peggio per lui. Oggi con le assicurazioni private e con la cosiddetta intramenia, chi ha soldi può avere subito il servizio che richiede e chi non li ha deve aspettare mesi e mesi. Adesso sono state emanate alcune disposizioni, vedremo che cosa daranno e se saranno veramente utili. Ma è un problema secondo lei, più di risorse, più di organizzazione, oppure pesa anche in modo significativo la carenza di personale in campo sanitario che riguarda un po' tutti i settori, alcune specialità proprio dei medici, gli infermieri, c'è comunque anche questa difficoltà? E' molto un problema anche organizzativo, certamente c'è bisogno anche di più risorse, ma il problema è essenzialmente organizzativo, per esempio la gente ricorre ai pronto soccorso non perché si diverta ad andare pronto soccorso, è perché sul territorio trova molto poco. Oggi un medico di medicina generale che agisce sul territorio deve fare qualcosa come 15 ore di ambulatorio alla settimana per 1500 persone. E' chiaro che 15 ore alla settimana sono niente, se si facessero le case della comunità dove invece si mettono insieme 30-40 medici, gli ambulatori potrebbero essere aperti 7 giorni alla settimana, 8 ore al giorno. La gente troverebbe aiuto sul territorio e non dovrebbe andare al pronto soccorso e non ci sarebbero lunghe liste d'attesa perché molte delle cose si potrebbero fare direttamente nelle case di comunità, quindi è anche un problema organizzativo. Questa disorganizzazione, secondo lei che ben conosce il mondo sanitario, potrebbe spingere anche medici, professionisti che magari hanno sempre lavorato nella sanità pubblica, credono nella missione anche negli ospedali invece a spostarsi su strutture private, su casi di cura ambulatori privati che offrono a questo punto solo visite e magari anche con meno problemi organizzativi, meno difficoltà di turni, di lavorare la notte, nei fine settimana, nei giorni festivi, forse di fatto anche un po' per lo stesso stipendio. Beh, bisogna dire che questo si sta già attuando perché noi abbiamo perso moltissimi laureati che sono andati a lavorare all'estero e abbiamo molti che escono dal Servizio Sanitario Nazionale per andare a lavorare nel privato perché sono pagati meglio, quindi c'è certamente un problema che riguarda gli stipendi, cioè tutto il personale sanitario ospedaliero è pagato almeno il 30% meno della media europea e questo naturalmente fa una differenza, non c'è dubbio, dobbiamo sistemare queste cose, però noi come numero di medici non siamo differenti dalla media europea, manchiamo invece molto di infermieri, si calcola che manchino nel Servizio Sanitario Nazionale qualcosa come 80.000 infermieri in tutta l'Italia, naturalmente. E come si inverte questa tendenza? Come si può riportare le persone a riavvicinarsi a queste professioni? Se si migliorano gli stipendi certamente la gente è più attratta ad andare anche in situazioni in cui necessariamente si devono fare, perché nelle terapie intensive non è che non si possano fare anche i turni notturni, nelle chirurgie per le anestesie non è che non si possano fare anche i turni notturni e i turni festivi, bisogna farli, però la gente li può sopportare se è adeguatamente pagata. Questo è uno dei problemi fondamentali che i politici conoscono bene, però per tante ragioni non stanno attuando e non stanno risolvendo le cose fondamentali. Siamo lasciati ormai definitivamente alle spalle il periodo della pandemia, secondo lei a questo punto a distanza di tempo c'è qualcosa che davvero la sanità italiana ha imparato e quali sono invece le nuove sfide che ancora non sta affrontando? Ha imparato molto poco, devo dire, perché per esempio continuiamo a spendere grandi quantità di danaro per comprare farmaci, siamo credo nel 23 e saremo vicini ai 25 miliardi di Euro e invece si potrebbero risparmiare molti soldi, sono 30 anni che non si fa una revisione del prontuario terapeutico nazionale, risparmiare qualche miliardo andrebbe a beneficio di quello di cui abbiamo bisogno per migliorare le risorse economiche. Quindi si può fare, basta volere, però i politici sono poi sottoposti al ricatto delle industrie farmaceutiche che dicono mi togli questo farmaco e io lascio a casa 50 persone e quindi questo è quello che poi è un ricatto per il mondo politico. Le faccio un'ultima domanda a proposito della pandemia, ce la siamo lasciate appunto alle spalle, c'è qualche timore? Su cosa lavora la comunità scientifica per evitare appunto che magari si possa ripresentare una situazione di questo tipo? Ci sono altri fenomeni allarmanti che magari state tenendo sotto controllo? Una nuova pandemia può venire in qualsiasi momento, il problema è che non abbiamo imparato dal passato e quindi che io sappia non è stato ancora predisposto un piano per affrontare in modo adeguato un'eventuale nuova pandemia. Ci auguriamo tutti che non venga, ci auguriamo che passano tanti anni, però se venisse saremmo impreparati come eravamo impreparati nel 2020. Quindi non è ottimista? Non abbiamo davvero imparato nulla? No, no, di fatto almeno a me non risulta che ci sia un nuovo piano per affrontare emergenze. Allora io ringrazio davvero il professor Garattini per essere stato con noi per questa analisi sul sistema sanitario. Grazie, buon lavoro. Grazie, altrettanto. E torniamo invece a quelle che sono le notizie della giornata. Anche questa mattina ci sono aggiornamenti. Le due vittime dell'incidente di Milano hanno 27 e 29 anni e gli altri ragazzi sono appunto feriti in modo molto grave. Un ventenne e un diciottenne che sono in gravi condizioni. erano sull'auto che dopo l'impatto con un camion si è anche ribaltata. Invece andiamo a vedere gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina perché Macron promette a Kiev i caccia Mirage e una brigata francese con soldati ucraini. La Russia in guerra. Le notizie di oggi appunto andiamo a vedere quali sono gli ultimissimi aggiornamenti. La cattiva notizia è che è tecnicamente impossibile ripristinare rapidamente le centrali elettriche danneggiate. Ci vorrà tempo, settimane, più spesso mesi, a volte anni. Lo ha detto il presidente dell'operatore statale ucraino al talk show Ucraino. Anche per le centrali idroelettriche l'entità dei danni è globale. Possiamo dire che non c'è praticamente nessuna centrale idroelettrica che non sia stata danneggiata. Abbiamo a che fare con una distruzione di dimensioni assolutamente senza precedenti. Intanto ci sono fonti dell'Unione Europea che dicono sì della Commissione all'adesione dell'Ucraina e della Moldavia. Alla Commissione che ritiene che l'Ucraina abbia soddisfatto tutte e quattro le priorità necessarie per aprire i negoziati di adesione così come la Moldavia. E allora prima di continuare ancora con le notizie torniamo però a vedere anche gli ultimissimi aggiornamenti da Torno. Sì eccoci siamo nella piazza del Comune. Qui a fianco a noi c'è il Comune di Torno. Come vedete qui c'è la base operativa dei Vigi del Fuoco con un coordinamento in cui si coordinano poi tutte le squadre sia dei Vigi del Fuoco, due in realtà sono al lavoro al momento di squadra dei Vigi del Fuoco e c'è anche una squadra speleo alpino fluviale per cercare il turista scomparso anche nei fiumi e in altri spazi appunto della montagna. Come vedete però ci sono anche le squadre della protezione civile, circa una ventina i volontari che sono al lavoro e che si affiancano quindi ai Vigili del Fuoco. Al momento appunto stanno proseguendo le ricerche, sono ripartite questa mattina alle 8 e proseguono nello stesso modo di ieri quindi sia sulla montagna che sul lago quindi sempre con droni anche con gommoni e unità cinofile. Poco fa, ecco lo potete vedere anche c'è anche un cane dei volontari della protezione civile. Quindi appunto si prosegue con le ricerche. Al momento sembra che le ricerche si stiano concentrando su alcune valli che non erano state esplorate ieri guardando le telecamere del Comune e anche alcune telecamere private. Insomma si sta cercando di ricostruire un po' quello che può essere stato il percorso del turista belga che sembra essere scomparso nel nulla. Ci spiegava poi il sindaco di Torno che le squadre stanno lavorando anche in alcune cascine che si trovano qui sulle montagne e comunque nelle valli qui intorno delle cascine abbandonate. Quindi si sta controllando anche lì per capire se magari il turista belga di 81 anni si sia fermato lì. Quello che abbiamo poi capito è che l'ipotesi che appunto sia in realtà abbia dei problemi, alcune malattie, sia malato di diabete. Quindi in realtà il sindaco ci spiegava che durante il giorno deve fare spesso delle punture proprio per questa patologia e l'ipotesi è anche che possa avere dei disturbi della memoria. Questo ci è stato ipotizzato dal proprietario del bar che aveva parlato con la moglie del turista. Lui ha detto ovviamente la moglie del turista parlava inglese quindi la comunicazione non era facilissima però da quello che aveva capito il proprietario del bar poteva esserci anche dei problemi di memoria appunto per il turista belga. In realtà appunto è stato l'ultima volta che è stato visto il turista era in piazza Caronti proprio qui vicino. La moglie si era fermata al bar per prendere un caffè mentre il marito si è allontanato e ha iniziato a camminare. Ha preso via Piave e ha iniziato a camminare nel lungo via Piave. È stato rivisto dopo 200 metri circa sulla via e da lì poi nessuno è più riuscito a vedere dove sia andato. Le varie ipotesi sono che si sia disperso appunto tra le valli qui di Torno oppure abbia preso anche un mezzo e si sia poi allontanato da qui. Però appunto queste sono tutte le ipotesi al momento al vaglio delle vigili del fuoco e della protezione civile che stanno andando avanti con le ricerche. Intanto se seguiranno ulteriori aggiornamenti ve li daremo sicuramente nei Tg e intanto vi ridiamo la linea. Grazie a Beatrice e vado a una notizia curiosa pubblicata dal Corriere del Ticino che riguarda George Clooney e la moglie Amal. In una chiamata al consigliere di Joe Biden la star di Hollywood ha espresso preoccupazione per le sanzioni che Washington potrebbe imporre alla Corte Penale Internazionale e ai suoi collaboratori compresa la moglie Amal. Allora questa è la curiosità che riguarda proprio anche l'attore di casa a Laglio proprio sul lago di Como. Voglio lasciare spazio. Siamo ormai ai minuti finali anche a qualche notizia più leggera, le notizie di sport innanzitutto con l'impresa della tennista italiana Paolini che ha conquistato la finale del Roland Garros battendo Andreva in due set. La notizia proprio di ieri, la vittoria della tennista italiana che ora si giocherà la finale in attesa poi anche di capire come saranno gli sviluppi nel torneo al maschile. L'Italia intanto è già in finale proprio grazie alla vittoria di Paolini. Ci sono poi anche notizie che riguardano il mondo dell'atletica perché proprio a Roma prendono il via gli europei il programma di oggi, prendono il via a Roma i campionati europei di atletica leggera nella cornice dello stadio olimpico. Si è partiti proprio già questa mattina con una sessione alle 9.35. Sono tanti gli italiani impegnati. Oggi si parte con gli 800 metri e poi anche con il salto in lungo. In serata invece la campionessa olimpica della 20 km di marcia Antonella Palmisano cercherà l'oro nel circuito disegnato al foro italico mentre Leo Fabri punta a una facile qualificazione nel peso. Invece poi durante la settimana ovviamente ci saranno anche tutte le altre gare, ci saranno impegnati anche Jacobs e Citruali, proprio il Lecomasco, nei 100 metri. Inizia intanto l'avventura azzurra iniziata particolarmente bene. Queste sono le primissime notizie con un ottimo risultato per l'eptatleta Sveva Gerevini che ha corso i 100 metri ostacoli in 13 secondi e 35 ha demolito il primato personale ed è in testa alla graduatoria. Queste le notizie aggiornate di oggi ci sono i primi risultati e ci sono appunto poi anche il calendario delle gare e come seguirle. Torno ancora un attimo al Corriere della Sera per gli ultimissimi aggiornamenti, lo abbiamo detto invece purtroppo drammatici perché la cronaca parla di un incidente questa mattina all'alba con due vittime, due giovani di 27 e 29 anni a Milano sulla tangenziale Nord. Ci sono altri due giovani che sono feriti in modo gravissimo. Siamo alla vigilia, lo abbiamo detto ampiamente, di una fine settimana elettorale. Allora andiamo a ricordarlo ancora una volta. Si vota per le elezioni europee e si vota anche per il rinnovo di numerose amministrazioni comunali. Allora andiamo ancora una volta a ricordare quelli che sono gli orari di apertura dei seggi. È possibile votare già nella giornata di domani. Il voto del sabato è abbastanza anomalo per il panorama italiano quindi vale la pena ricordarlo ancora una volta. Urne aperte già domani dalle 15 alle 23. Si vota poi invece nell'intera giornata di domenica dalle 7 alle 23. Gli italiani, i cittadini lombardi riceveranno in tutti i casi ovviamente la scheda per le elezioni europee e poi anche quella per le elezioni comunali nelle amministrazioni nei paesi in cui si rinnova anche il consiglio comunale. La scheda è quella grigia per i candidati al Parlamento europeo nella circoscrizione in cui rientra anche la Lombardia che dovrà eleggere 20 euro parlamentari. 76 invece complessivamente sono i seggi a disposizione per l'Italia. Il voto è già iniziato. In Olanda, nei Paesi Bassi, le urne sono già chiuse. La maratona elettorale terminerà in tutti i paesi dell'Unione Europea domenica sera. Poi si partirà in tempo reale con lo spoglio delle schede. I risultati delle amministrative invece per quanto riguarda il rinnovo delle amministrazioni comunali lo spoglio è previsto nella giornata di lunedì. E ricordando ancora questi aggiornamenti, noi siamo giunti al termine di questa puntata. Continueremo ad informarvi anche sulle ricerche del turista disperso a Torno nel corso della giornata con il telegiornale a partire dall'edizione delle 12.30 e naturalmente anche con il nostro sito e i nostri canali social sempre aggiornati in tempo reale. ETG più Today invece termina qui. L'appuntamento è per lunedì mattina alle 10.30. Quindi grazie per essere stati con noi. Buona giornata e buon fine settimana.